Buongiorno, buona giornata, amici cari. Come avete visto il video del manager di Alessandro Lopez, condividete che il 30 ottobre sarò alla sua agenzia. Mi ha fatto un grande bellissimo video da New York, dei complimenti del premio che ho avuto in Umbria, io, mia sorella Fonsina e Sabrina Morelli. Guardatelo, parte dopo di questo video, guardatelo subito, ok? E condividete quest'altro video. Grazie. Buonasera a tutti. Volevo fare i complimenti al regista Marco Zollo, che è stato premiato per il suo cortometraggio, insieme a sua sorella Fonsina, scrittrice, insieme anche a Sabrina Morelli. Il suo corto riflessioni, molto bello, ha avuto un bel riconoscimento e sono particolarmente felice che questo sia accaduto, perché Marco Zollo è persona capace, è una persona sensibile che ha un vissuto e sa raccontare molto bene le sue storie. E io presto lo accoglierò nella mia agenzia, rappresentandolo nel portfolio dei miei artisti. Oltre ad essere un bravo regista, un bravo autore, è anche un bravo attore. Un saluto da New York e da Alessandro Lopez. Ciao a tutti. Eccoci, come avete visto questo bellissimo video di Alessandro Lopez dalla città di New York. Bella soddisfazione. Dal 30 ottobre mi presenterà come manager Alessandro Lopez. Che dire, mi ha alloggiato. Dei complimenti. Amici, vi auguro una buona giornata e un bacione a tutti. Ciao.